Buonasera! Che cosa vi posso portare? Allora, senti a me porti una cosa leggerita perché oggi ho mangiato assai... Salute! Senti, rimaniamo sul leggero, portami un bel panzerotto fritto! Gianfranco, panzerotto fritto! E poi pure uno al forno che è più leggero! Questo lo vuole pure al forno! Io vorrei avere un breakfast americano! Qui abbiamo un breakfast gravinese! Qui siamo in Gravina in Puglia, Bar la stazione! Gianfranco, questa è americana! E per te? Io vorrei qualcosa di buono, però allo stesso tempo salutare! Ciao! Io sono crudista! Gianfranco, questo lo vuole crudo! Io glielo do crudo! Noi ve lo facciamo come volete voi!